Mi è stato posto diverse volte questo quesito Cosa utilizzi per verificare eventuali problematiche in rete di latenza, di disconnessioni, di eventuali problemi di comunicazione tra uno o più dispositivi in una rete LAN? Io utilizzo un software specifico che mi permette per l'appunto di monitorare, creare una sorta di statistica per quanto riguarda la connettività in rete Ve lo mostro un attimo, il software si chiama Enco Ping Monitor, non so se lo conoscete Io mi sono trovato, lo uso ormai da parecchio tempo, mi sono trovato molto molto bene Se andiamo nel sito ufficiale possiamo andare a scaricare la versione Esistono in realtà tre edizioni di questo software C'è un'edizione completamente free che vi permette di effettuare la scansione di fino a 5 host simultanei Oppure eventuali versioni a pagamento Diciamo che per l'utilizzo che ne fò io Quindi andare a diagnosticare solo nell'evenienza eventuali malfunzionamenti della rete Potrebbe, cioè è più che sufficiente diciamo l'edizione gratuita Logico è che se avete intenzione di utilizzarlo per altri fini Quindi magari, che ne so, monitorare un server, amare un server web Che sia sempre online o un sito internet o quello che è Potrebbe venire meno le vostre necessità Quindi potreste avere bisogno di un'edizione a pagamento Andiamo quindi, io l'ho già installato, scaricato ed installato Vi mostro un attimo come funziona Una volta installato il software vi viene chiesta una prima configurazione Ci tenevo a farvela vedere È questa qua Quindi la prima volta che lo lanciamo ci chiede se il server sta girando nel computer locale O se dobbiamo controllare un encoping monitor remoto Possiamo infatti da una postazione client andarci a collegare a questo server Perché? Perché utilizza database SQLite o SQL server Ora lo vedrete In fase di prima configurazione ci viene chiesta se vogliamo utilizzare la trial Quindi abbiamo 30 giorni di trial free Clicchiamo quindi evaluate E veniamo per l'appunto dei reti a questo wizard che volevo farvi vedere Qui abbiamo la possibilità di andare a selezionare Quanti host avremo in mente più o meno di scansionare Lasciamo 500 host sono molto più sufficienti Quindi se vogliamo personalizzare l'intervallo di ping eccetera eccetera Lasciamo a default Io lascio a default E questa è una cosa importante Ecco ci tenevo a farvela vedere Ovviamente il discorso qual è? Se io lascio acceso un pc o un server Una macchina virtuale Qualsiasi dispositivo questo sia Potrebbe venir meno la connettività Magari internet se sto pingando un server remoto E a quel punto il mio risultato sarà falsato Dalle disconnessioni che ha avuto in realtà il mio dispositivo Che stava facendo il monitor Grazie a questo gateway possiamo andare a specificare Se lui deve andare a fare un controllo Su un IP esterno Per verificare che in realtà Non manchi effettivamente la rete La comunicazione di rete tra lui E il server che state monitorando Ma che in realtà sia andato magari giù internet proprio Quindi da qui potete andare a specificare un gateway Spero di essermi spiegato se così non fosse Scrivetelo nei commenti Se così non fosse In questo modo capite se in realtà è andato giù il pc O è andato giù effettivamente il server che state monitorando Procediamo a questo punto Mi chiede se voglio salvare delle statistiche Assolutamente sì E ci viene chiesto anche se vogliamo utilizzare un server smtp Perché ci chiede un server smtp per inviare per email eventuali notifiche Nel caso in cui magari abbia esagerata latenza O sia andato definitivamente down Lasciamo later Sì sono sicuro però non ci interessa Ci fa selezionare se vogliamo utilizzare SQLite Quindi vi crea il database essenzialmente del programma Semplicemente un file Se vogliamo utilizzare SQLite Lasciamo SQLite che è più che sufficiente E se vogliamo andare già a specificare i 5 host da andare a monitorare Ne metto uno giusto per andare a fare una prova Facciamo create Ok lui si inizializza per la prima volta Il programma è molto intuitivo Semplice da utilizzare Mi piace molto anche graficamente Provatelo perché ne vale veramente la pena Il programma è partito È questo qua Come vedete lui è già iniziato a pingare il mio indirizzo In questo caso ho scelto un IP interno alla mia rete LAN Nessuno mi vietava di specificare un IP pubblico esterno Se vogliamo magari monitorare lo stato di una DSL O di un server web O di una WPS O di quello che vi pare Da qui abbiamo un summary Diciamo di quelli che sono dispositivi monitorati Quanti ne sono attivi Quanti hanno una qualità buona O scarsa o critica Abbiamo diversi monitor Qualità, statistiche e quant'altro Per l'appunto se noi andiamo in statistics Troviamo lost name Il periodo di attività Quindi da quando è che è iniziato Chiamiamolo ping La percentuale di outtime In questo caso il 100% perché è appena partito E Leverage ping Quindi quando è stato i millisecondi di media Minimo, massimi eccetera eccetera A questo punto se noi andiamo a cliccare sopra All'indirizzo IP Vedrete che verremo riportati a una sorta di grafico Molto molto interessante Come vedete ci dice L'apptime La latenza Il la percentuale di pacchetti persi Quanto è stato quindi Cioè diciamo più nel dettaglio Per ogni grafico Quanto è stata la percentuale di esso Diciamo E qui vi mostra proprio un grafico In tempo reale Come vedete sta avanzando E trovate numerose altre schede Con i dettagli dei grafici Vedete Molto molto intuitivo Molto semplice da utilizzare E questo vi permette Per l'appunto Di eventuali eventi Vi permette per l'appunto Di andare a monitorare Eventuali host Locali La vostra rete O vi ripeto Anche remoti Se io vado qua Faccio new Host Posso creare sia host Che gruppi di host Quindi magari far partire La scansione Con un click Quindi avviandola Direttamente su Un gruppo di host Andiamo ad aggiungere Un host singolo Metto ad esempio Posso mettere Un ip pubblico Direttamente Un sito internet Se io lo vado ad aggiungere Lui automaticamente Lo inserirà in elenco Inizierà a Pingarlo E a monitorarlo Se andiamo a vedere Lui Me lo ha inserito Se vado dentro Vedete Mi da già Un grafico Delle performance Delle performance Della Uptime Tutti i valori Che ci interessano Allora Andiamo un attimo A stoppare Il monitoring Ok Infatti ora ci segna Inattivo Molto molto interessante Cos'è Immaginiamo Di trovarci Una situazione In cui qualcuno Ci chieda Ma guarda Quel server Quel pc Quel dispositivo Da questo genere Di problemi Voi avete La possibilità Di generare Direttamente Da questo monitor Un report Lo potete fare Standard O lo potete fare Più dettagliato Ok Lo facciamo dettagliato E a questo punto Potete andare a selezionare Un periodo Un intervallo di tempo Del monitor Che avete effettuato Gli diamo un nome Gli potete dare un nome Andiamo avanti Selezionare Di quali host Volete creare Il report Il report Scusate Andate avanti Possiamo andare A dirgli Di salvarlo Magari Su un determinato Come Diciamo Come pdf Come pagina HTML Oppure Di andarlo Inviare Per email O storarlo Direttamente Sul nostro Discord Clicchiamo finish Lui automaticamente Mi riaverà A salvato Il mio report Ed ecco qua Il nostro record Dettagliato Come vedete Mi segna L'indirizzo IP Mi segna Tutti i dati Che avevamo prima Ovviamente Adesso l'ho appena Eseguito Quindi Come vedete Non riporta dati Ma basta Che gli date Un po' di tempo Di acquisire Le informazioni Necessarie A poter creare Un report Quindi già con qualche ora Riuscite Ad ottenere Un report L'ultima cosa Come vedete C'è la scritta Evaluation Se volete utilizzare Direttamente La versione Free Andate qui Cliccate su Program Ok La scheda Program Selezionate Manage License E qui andate a fare Continua con L'edizione Free Ok Quindi lui capirà Che non siete interessati All'edizione a pagamento Si riavvia Si va a riaprire Una volta riaperto Quando ritornerete A generare il report Non avrete più La scritta Evaluation Spero che il video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Lasciate un like Iscrivete al canale E attivate La campanellina Alla prossima